Soffrivo le pene, per colpa del pene, ma il problema non si pone, si perché il pene mi dà il pane, sono diventato un piangatore, e perché siamo nell'amore, mi sono comprato la moto, e ora se stiamo nell'amore, non faccio più nuovo. E non ti parlo solo in moto, ora se stiamo nell'amore, ho rilanciato il film, e perché sono un uomo, e se me ne vedete filmato sicuramente non vedete con noi che questo è verità. C'è un uomo sulla vita per il cinema, c'è un uomo sulla vita per la moto, c'è un uomo sulla vita per la moto. Mi faccio dire che, di dimensione amistica, su di ciò la critica è comporre, e di tenermi su e giù. E in teoria ho capito, non parlo perché sono rappinto, e poi in faccio non sono mai ricordato, però dal pubblico sono bell'arco, e ora sono diventato un pinto. Ho rilanciato il pinto, ho rilanciato il pinto, perché sono suo, e se fossi stato cieco, avrai rilanciato il pinceco, e se fossi stato sovarto, avrai eliminato l'Italia dal continuo. Eccolo qui! Grazie a tutti.